Allora, domani sera è una giornata particolare per la protezione civile, apre le porte della sua struttura per far vedere e farla conoscere a tutti. Sì, ci è venuta questa idea in pratica perché molti cittadini, molti volontari che anche incontriamo, che magari sono venuti qualche mese fa, ci hanno detto ma io se pensavo, ci avevo pensato già da tempo ma non sapendo che cos'è la protezione civile e come funziona e allora ci è venuto in mente di fare una giornata, in pratica un open day, la sede è aperta per tutti quei cittadini che voglio conoscere più da vicino che cos'è la protezione civile, innanzitutto la protezione civile è un insieme di realtà a partire comunque dalle istituzioni, il volontariato ne fa parte ma è una piccola componente anche se poi quando serve in massa e in gran numero, però in pratica bisogna ben capire qual è lo scopo del volontariato rispetto al resto, quindi noi domani sera alle persone che vogliono avvicinarsi sia per curiosità ma soprattutto lo scopo finale nostro è anche di avere qualche volontario perché qualcuno ne sta uscendo dovuto all'età e quindi daremo quelle informazioni che cos'è la protezione civile, che cos'è il CIP Club Mattei in protezione civile o nella città, poi faremo vedere quale sono le nostre attrezzature e strutture e poi faremo una chiacchierata e vediamo se qualcuno di loro sarà interessato. Nel caso sia interessato a rimanere all'interno della nostra struttura inizierà un corso una volta alla settimana che terminerà con un esame finale nel mese di maggio-giugno e poi faranno parte della nostra struttura. Appuntamento quindi domani sera? Domani sera, mercoledì 18 alle ore 21 presso il Codma via Campanella, Box 18. Noi vi aspettiamo e risponderemo alle vostre domande e presenteremo l'associazione.